Corino, Stadio Olimpico, un saluto da parte di Federico Zancan e Franco Causio. E' la decima giornata del campionato di Serie A, Juventus-Cesena, gara importante per i bianconeri che vogliono dare continuità dopo la grande vittoria di San Siro contro il Milan, l'avversario è il Cesena, la squadra di Ficcadenti dopo un ottimo inizio di stagione si è un po' persa un punto nell'ultima e sei, e allora anche per il Cesena, questa è una gara assolutamente delicata da non fallire. Giaccherini, il cross di Giaccherini sul secondo palo, Schelotto, la posizione regolare, gioca dentro, Imenez, Imenez porta avanti il Cesena dopo dieci minuti. Qui c'è stata proprio tutta la difesa ferma, voglio vedere alle spalle, non c'è fuori gioco assolutamente, guarda Federico è una cosa veramente inammissibile, tutta la difesa ferma. Magatomo sulla fascia, va a crossare, Bonucci a vuoto, palla in aria per Bogdani che scarica Giaccherini, la chiusura di Motta, poi Parolo dalla distanza, Storrari la tiene ma la Juve sta soffrendo. Pepe, Aquilani, alza la testa, Aquilani dalla distanza, un gran tiro che Antonioni alza sulla traversa. Del Piero, la palla nel mucchio, Bonucci va vuoto, calcio di rigore, calcio di rigore per la Juve. La spinta, i danni di Leonardo Bonucci. Parte Del Piero, il pareccio della Juve con Alex Del Piero, sempre lui. Dire che è perfetto sto rigore, palla da una parte, un tiro dall'altra. Quagliarella, bravo a mettere il pallone a disposizione di Pepe, attenzione, attenzione al fallo di Pellegrino. E' già munito, cartellino rosso. Marchisio. Cross con il bancino, è buono, Quagliarella! Quagliarella, 2-1 a Juve, ancora di testa, Fabio Quagliarella. Il giocatore che è arrivato, ha bloccato già, iniziato e sta facendo veramente la fortuna di questa squadra. Calcio del Piero, grosso, di testa. Quagliarella prova a liberarsi, allarga tutto per Motta, Caspazio prova il tiro Motta. Palla larga. Lancio di Motta in area, Iacquinta fa la sconda bene, Quagliarella in area, Quagliarella va con il destro. Antonioli in calcio d'angolo. Palone in area, Iacquinta! Gran gol, Vicenza Iacquinta! 3-1 a Juve! Grande gol, anche per Ruzione, anche per Pelluto, il corso di Vigeli. Finisce così allora, la Juve vince, 3-1, terza minuta.